Ciao a tutti ragazzi e ragazze oggi siamo in un prossimo video per dirvi per il prossimo video allora per il prossimo video raga sarà la prossima settimana sarà comincerò la serie Hitman Absolution vi botterò tutti i gameplay se volete che facci proprio una serie me lo dite ok ragazzi allora a 50.000 like che ora vi sto dicendo che il titolo lo scriverà avviso per il prossimo video 50.000 like oppure anche 10 e vi potterò ragazzi vi potterò Hitman Absolution voglio tante visualizzazioni in questo video ragazzi anche nella serie che farò quindi ragazzi voglio 10.000 like o 10 o 40 quello che sia ragazzi e ci vediamo nella serie poi della prossima settimana ci vediamo alla prossima bella ragazzi di 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 di